Il signor Prociarein Nell'appartamento di Iustinia Fiodrovna, nell'angolo più buio e umile, alloggiava Semyan Ivanovich Prociarein, persona di età ormai matura, ben pensante e astenia. Poiché lo stipendio del signor Prociarein, dato il suo grado modesto, era esattamente proporzionato alle sue capacità, Iustinia Fiodrovna non riusciva in alcun modo ad ottenere da lui per l'affitto più di 5 rubli al mese. Secondo alcuni, in ciò essa aveva un suo tornaconto, ma comunque stessa la faccenda, il signor Prociarein, come per vendicarsi dei suoi detrattori, era addirittura divenuto il suo favorito, intendendo questa espressione nel suo significato più nobile e onesto. Ho osservato che Iustinia Fiodrovna, una donna assai rispettabile e imponente, con un debole per i cibi sostanziosi e per il caffè, per cui osservava con gran fatica i digiuni prescritti, tenevano nel proprio appartamento alcuni pensionati, i quali pagavano alla vedova persino il doppio di Semian Ivanovich, ma non essendo persone posate, e al contrario essendo tutti, senza eccezione, dei perfidi schernitori, che si prendevano gioco delle sue faccende di donna e della sua condizione di orfana indifesa, occupavano un posto assai basso nella sua considerazione, così che, se soltanto non avessero pagato per le loro stanze, ella non solo non avrebbe permesso loro di alloggiare nel suo appartamento, ma neppure avrebbe voluto vederne la faccia. Semian Ivanovich era divenuto il suo favorito, dal momento stesso in cui era stato portato a Folkovo un impiegato di missionario, ma forse sarebbe molto meglio dire esonerato, traviato dalla sua passione per le bevande forti. Questo impiegato, traviato e desonerato, benché andasse in giro con un occhio pesto, a causa del suo coraggio, diceva lui, e con una gamba spezzata, anch'essa non si sa bene come, a causa del suo coraggio, ciò non di meno aveva saputo suscitare e usufruire di tutta la benevolenza di cui era capace Iustinia Fiodrovna, e verosimilmente sarebbe stato ancora a lungo il suo più fedele compagno mantenuto, se alla fine non si fosse dato all'ubriachezza nella maniera più totale e lamentevole. Tutto questo era accaduto ancora a Peschi, quando Iustinia Fiodrovna teneva soltanto tre pensionati, dei quali, quando si era trasferita nel nuovo appartamento, dove aveva organizzato il suo esercizio su più vasta scala, accogliendo una decina di nuovi inquilini, unico superstite, era rimasto il solo signor Prociarein. Forse a causa del fatto che il signor Prociarein aveva i suoi incorreggibili difetti, o fosse perché i suoi compagni erano dotati ciascuno di questi stessi difetti. Il fatto è tuttavia che fin dall'inizio i rapporti tra loro erano risultati difficili. Osserviamo qui che tutti i nuovi inquilini di Iustinia Fiodrovna, senza esclusione, vivevano fra loro in comunità, come se fossero stati fratelli. Alcuni lavoravano nello stesso ufficio. Tutti, in generale, a turno, ogni primo del mese, perdevano il proprio stipendio giocando con gli altri a sette e mezzo, a preference o a bix. Amavano, quando ne veniva loro luzzolo, godersi tutti insieme, in allegra brigata, gli attimi spumeggianti della vita, come usavano dire. Amavano anche talvolta parlare di argomenti elevati, e benché, in quest'ultimo caso, raramente la cosa non finisse in discussioni. Tuttavia, poiché dalla loro compagnia i pregiudizi erano banditi, l'accordo reciproco non ne soffriva minimamente. Fra gli inquilini erano particolarmente rimarchevoli Mark Ivanovich, persona intelligente e di vaste letture. Poi, l'inquilino Oploganiev, l'inquilino Prepolvenko, un uomo anche egli buono e modesto. Poi, vi era un certo Zinovi Propofievich, che si era proposto di riuscire a tutti i costi ad accedere all'alta società. Infine, vi era lo scrivano Keanov, che a suo tempo era quasi riuscito a strappare la palma di favorito a Semyon Ivanovich, un altro scrivano, Sudbin, il Razonein Kantarev e altri ancora. Ma rispetto a tutte queste persone, Semyon Ivanovich era come un estraneo. Nessuno, naturalmente, gli voleva male e anzi, fin dal principio, tutti avevano le sue giustizie a Prociarein, riconoscendo, secondo le parole di Mark Ivanovich, che, benché non fosse un uomo di mondo, egli, Prociarein, era una persona buona, mansueta e leale, non era un adulatore, eppure avendo, naturalmente, i propri difetti, se mai in lui qualcosa poteva riuscire sgradevole, era esclusivamente la sua mancanza di fantasia. Ma non basta, perché, sprovvisto, come abbiamo detto, di fantasia, il signor Prociarein, per il suo aspetto e le sue maniere, non poteva impressionare nessuno in modo particolarmente favorevole, cosa su cui amano infierire ai malevoli, ma anche questo passava inosservato. Sulla questione, Mark Ivanovich, che era una persona intelligente, aveva preso le sue difese, dichiarando in maniera abbastanza felice e con uno stile colorito e magnifico che Prociarein era una persona matura e seria, che si era da lungo tempo lasciato alle spalle il tempo delle elegie, cosicché, se Semen Ivanovich non sapeva andare d'accordo con la gente, la colpa di tutto ciò era unicamente sua. la prima caratteristica che attirò l'attenzione di tutti fu senza dubbio la tirchieria e l'avarizia di Semen Ivanovich. Ciò venne subito rimarcato e se ne tenne conto poiché Semen Ivanovich mai per nulla al mondo e a nessuno avrebbe prestato la sua teiera, neppure per brevissimo tempo e questa sua condotta era tanto più ingiustificata in quanto lui non beveva quasi mai il tè ma quando ne sentiva il bisogno prendeva invece un suo infuso abbastanza gradevole di fiori di campo e di certe erbe medicinali del quale nella sua camera c'era sempre una notevole provvista. D'altra parte anche per quel che riguarda il cibo egli non mangiava come mangiavano di solito tutti gli altri pensionati. Mai ad esempio egli si consentiva di consumare l'intero pranzo proposto ogni giorno dai suoi colleghi da Ustinia a Fiodolovna. Il pranzo costava mezzo rublo ma Semen Ivanovic spendeva soltanto venticinque copecche di rame e non superava mai questa cifra perciò prendeva solo una portata e solo gli sci col pirog o solo il manzo quasi sempre però non prendeva né gli sci né il manzo e mangiava in giusta misura del pane bianco con una cipolla o con della ricotta o con un cetriolo marinato o con qualche altro companatico il che risultava incomparabilmente più economico ritornando al suo mezzo pranzo soltanto quando non ne poteva proprio più. A questo punto il biografo deve confessare che non si sarebbe a nessun patto risolto a parlare di particolari così insignificanti bassi e persino indecenti anzi diremo di più persino offensivi per taluni amatori del bello stile se tutti questi particolari non racchiudessero una peculiarità un tratto predominante del carattere del protagonista di questo racconto il signor Procerain infatti non era assolutamente così povero come lui stesso talvolta assicurava da non essere neppure in grado di permetterci un vitto regolare e sufficiente ma si comportava così senza preoccuparsi della vergogna e dei pettegolezzi della gente in sostanza per soddisfare le sue strane manie per tirchieria e per soberchia prudenza come del resto risulterà assai più chiaro in seguito ma noi ci guarderemo bene dall'annoiare il lettore con la descrizione di tutte le strenezze di Semyon Ivanovic e non solo ci asterremo ad esempio dalla descrizione curiosa e assai divertente per il lettore dei suoi vari abbigliamenti ma persino non fosse per la deposizione di Ustinia Fedorovna ben difficilmente avremmo accennato al fatto che Semyon Ivanovic in tutta la sua vita non riusciva mai a risolversi a dare a lavare la propria biancheria oppure se lo faceva ciò avveniva talmente di rado che negli intervalli ci si poteva completamente dimenticare della presenza di biancheria sulla persona di Semyon Ivanovic nella deposizione della proprietaria inoltre si affermava che Semyon Ivanovic giovane piccioncino sia pace all'anima sua era marcito in un angolo della sua casa per due decine d'anni senza alcun pudore poiché non solo per tutto il tempo della sua vita terrena costantemente e con ostinazione non ne aveva voluto sapere di pedalini fazzoletti ed altre cose simili ma persino come la stessa Agustinia Fiodorovna aveva visto con i propri occhi grazie alla vetustà dei paraventi talora povero piccioncino non aveva nulla con cui coprire il suo bianco corpicino queste voci si diffusero ormai dopo la morte di Semyon Ivanovic ma quando era in vita e questo era uno dei principali punti di discordia egli nonostante i migliori rapporti di camelatismo non tollerava assolutamente che chi che sia senza chiedere nel permesso curiosasse nel suo angoletto fosse anche grazie alla vetustà dei paraventi egli era una persona assai poco socievole taciturna e poco incline ai discorsi oziosi non amava i consiglieri di alcun genere né aveva alcuna pietà per le persone indiscrete e invariabilmente quando si presentava l'occasione riprendeva l'importuno o il consigliere indiscreto svergognandolo e così la faccenda era chiusa sei un moccioso un chiacchierone e non un consigliere ecco com'è occupati signor mio degli affari tuoi e conta piuttosto quanti fili ci sono voluti per fare le tue pezze da piedi ecco cosa ti dico Semyon Ivanovic era una persona alla buona e dava a tutti senza eccezione del tu parimenti non poteva assolutamente sopportare che qualcuno pur conoscendo la sua indole per pura impertinenza cominciasse a importunarlo chiedendo cosa ci fosse nel suo bauletto Semyon Ivanovic infatti possedeva un bauletto questo bauletto era conservato sotto il suo letto ed egli lo custodiva come la pupilla dei suoi occhi e sebbene tutti sapessero che dentro di esso non vi fosse assolutamente null'altro che vecchi stracci due o tre paia di stivali rotti e in generale ogni sorta di cerpame e carabattole tuttavia il signor Procerain teneva in gran conto questo suo bene mobile e una volta l'avevano persino sentito dire che non contento della sua vecchia e abbastanza solida serratura intendeva procurarsene un'altra di un certo tipo speciale fabbricata in Germania munita di vari dispositivi e di una molla segreta quando poi una volta Zinovi Prokofievich trascinato dalla propria sventatezza giovanile aveva espresso il pensiero assai indecente e grossolano che Semyan Ivanovich probabilmente riponeva e nascondeva nel proprio bauletto cose da lasciare agli eredi tutti gli astanti erano rimasti impietriti di fronte alle conseguenze inaudite dell'uscita di Zinovi Prokofievich da prima il signor Procerain su due piedi non era neppure riuscito a trovare espressioni adeguate per replicare un pensiero talmente sfacciato e grossolano a lungo dalle sue labbra si erano riversate parole prive di senso e infine erano riusciti soltanto ad afferrare che Semyan Ivanovich in primo luogo rinfacciava a Zinovi Prokofievich una sua antica faccenda di spilorceria e poi grossomodo compresero che Semyan Ivanovich prediceva a Zinovi Prokofievich che non sarebbe mai e poi mai riuscito ad entrare nell'alta società e che invece il sarto al quale doveva ancora pagare il suo vestito lo avrebbe immancabilmente riempito di botte perché lui moccioso tardava tanto a pagarlo che infine tu moccioso aveva aggiunto Semyan Ivanovich guarda un po' vorresti diventare ufficiale degli Ussari e invece non ti riuscirai farai fiasco e non appena i tuoi superiori verranno a sapere ogni cosa ti metteranno a fare lo scrivano ecco come stanno le cose moccioso hai capito? poi Semyan Ivanovich si era calmato ma dopo essere rimasto disteso sul suo letto per circa cinque ore fra la stupefazione generale come ripensandoci da prima per conto proprio poi rivolgendosi a Zinovi Prokofievich aveva ricominciato di nuovo a strapazzarlo e a svergognarlo ma non era ancora finita e la sera quando gli inquilini marchi Ivanovich e prepolovenco avevano organizzato un tè invitando lo scrivano Okeanov a tenere loro compagnia Semyan Ivanovich era sceso dal suo letto e di proposito si era seduto a tavola con loro versando i suoi venti o venticinque copechi e adducendo a pretesto che gli era venuta voglia di prendere un tè aveva cominciato ad entrare in materia assai diffusamente spiegando che un pover uomo non era altro che un pover uomo e nient'altro e che un pover uomo non aveva nulla da accumulare a questo punto il signor Procerain aveva persino ammesso solamente perché il discorso era accaduto sull'argomento di essere un pover uomo ancora due giorni prima aveva pensato di chiedere in prestito un rubulo a quell'impudente ma adesso non gli avrebbe più chiesto nulla perché quel mozzoso non se ne vantasse ecco quanto al suo stipendio aveva aggiunto non bastava neppure a sfamarlo e che lui un pover uomo come lo vedevano ogni mese mandava cinque rubli a sua cognata a Tver e che se lui non avesse mandato ogni mese cinque rubli alla cognata a Tver la cognata sarebbe morta e se questa cognata che viveva a suo carico fosse morta Semien Givanovic si sarebbe comprato da un pezzo un abito nuovo e Semien Givanovic aveva continuato a parlare tanto a lungo e diffusamente del pover uomo dei rubli e della cognata ripetendo sempre la stessa cosa perché si imprimesse più saldamente nella mente di chi lo ascoltava che alla fine aveva completamente perso il filo del discorso e si era zittito e solo tre giorni più tardi quando a nessuno ormai passava neppure lontanamente per la testa di stuzzicarlo e tutti anzi si erano persino dimenticati di lui per concludere aveva aggiunto presciapoco che quando Zinovi Prokofievic sarebbe stato ammesso nel corpo degli Ussari a quell'imprudente in guerra avrebbero troncato una gamba e al suo posto gli avrebbero messo un pezzo di legno e Zinovi Prokofievic sarebbe venuto da lui e gli avrebbe detto Semien Ivanovic bravo uomo dammi un pezzetto di pane ma Semien Ivanovic non gliel'avrebbe dato e anzi non l'avrebbe neppure guardato in faccia quel manigoldo di Zinovi Prokofievic ecco tutto questo come era naturale era sembrato assai curioso e nello stesso tempo terribilmente divertente senza starci tanto a pensare sopra tutti gli inquilini della padrona si erano alleati per approfondire le indagini e in pratica per pura curiosità avevano concordato di assalire compatti Semien Ivanovic decisi ad averne ragione e dato che il signor Prokofievic nell'ultimo periodo della sua vita ossia da quando aveva cominciato a vivere in compagnia era stato anche egli preso dall'irrefrenabile desiderio di sapere ogni cosa di far domande e di curiosare il che verosimilmente faceva per certi suoi misteriosi motivi i contatti tra le parti avverse avvenivano senza alcuna preparazione preventiva e senza inutili sforzi bensì come per caso e spontaneamente per allacciare i contatti Semien Ivanovic aveva sempre in serbo un suo espediente abbastanza astuto e del resto assai ingegnoso che in parte al lettore è già noto scendeva dal letto verso l'ora del tè e se vedeva che qualcuno degli altri si era radunato per preparare la bevanda si avvicinava con aria umile intelligente ed affabile versava i suoi doverosi venticinque copechi e dichiarava che desiderava partecipare a questo punto i giovani si facevano l'occhietto e accordatisi così tra loro di dare addosso a Semien Ivanovic cominciavano dapprima con lui una conversazione garbata e cerimoniosa poi qualcuno dei più burloni si lanciava con l'aria più innocente di questo mondo a raccontare novità di ogni genere il più sovente false e del tutto inverosimili ora per esempio affermando che qualcuno quel giorno aveva sentito dire che sua eccellenza aveva detto a Demed Vasilievic in persona che a suo parere gli impiegati ammogliati risultavano più solidi di quegli scapoli e quindi più indicati per una promozione di grado infatti gli impiegati tranquilli e accasati acquistavano capacità notevolmente più elevate e perciò lui colui cioè che raccontava per uscire più facilmente a distinguersi e a salire di grado intendeva quanto prima sposare una certa Fedorovna Prokofievna oppure per esempio che era stato notato più di una volta a proposito di alcuni della loro confraternita che si erano totalmente privi di ogni mondanità e di buone e gradevoli maniere per cui in società non potevano piacere alle signore e perciò per eliminare questo inconveniente sarebbe stata immediatamente introdotta una trattenuta sullo stipendio e con la somma da essa risultante sarebbe stata istituita una sala dove avrebbero insegnato a ballare e ad acquistare tutti i caratteri della nobiltà nonché un modo di fare raffinato la cortesia il rispetto per gli anziani la forza di carattere la bontà di cuore la riconoscenza ed ogni sorta di maniere piacevoli oppure infine affermavano che risultava pareva che taluni impiegati a cominciare dai più vecchi per divenire immediatamente colti avrebbero dovuto sostenere una specie di esame su tutte le materie e in tal modo soggiungeva il narratore molte cose sarebbero venute a galla e certi galantuomini sarebbero stati costretti a mettere le carte in tavola in una parola venivano raccontate migliaia di queste e altre tali assurdità tutti all'istante per finta facevano le viste di crederci partecipavano alla discussione facevano un'infinità di domande citavano il proprio caso mentre alcuni addirittura con un'espressione mesta cominciavano a scuotere il capo e a cercare consigli da ogni parte che cosa avrebbero dovuto fare chiedevano se fosse toccata a loro è del tutto evidente che anche una persona molto meno bonaria e pacifica del signor Bruciavein avrebbe finito col rimanere confuso e disorientato a una simile atmosfera generale inoltre da tutti gli indizi si può dedurre si può dedurre senza ombra di dubbio che Semen Ivanovic si mostrava straordinariamente ottuso e recalcitrante di fronte a qualsiasi idea nuova e inconsueta per il suo intelletto e che venendo a sapere per esempio una qualche novità era costretto sempre prima per così dire a ruminarla e a digerirla a farsene una ragione smarrendosi e confondendosi riuscendo solo alla fine ad assimilarla ma anche questo soltanto in una certa maniera del tutto particolare e a lui soltanto propria si scoprirono così all'improvviso in Semen Ivanovic talune curiosi qualità fino ad allora insospettate cominciarono a correre voci e giudizi e tutto ciò con varie aggiunte pervenne infine per la solita via al ministero contribuì a produrre maggiore effetto anche la circostanza che improvvisamente la fisionomia del signor Brucerain che da tempi immemorabili era sempre rimasta praticamente identica di punto in bianco mutò egli cominciò ad avere una faccia inquieta a lanciare occhiate timorose timide e vagamente sospette cominciò ad andare in giro con fare circospetto a sussultare e a tendere l'orecchio e a completamento di tutte queste sue nuove qualità è incredibile quanto prendesse a cuore la ricerca della verità e gli portò il suo amore per la verità un punto tale che in una o due occasioni si arrischiò a informarsi presso Demid Vasilievicz in persona sulla verosimiglianza di decine di notizie che giornalmente venivano a sua conoscenza e se noi qui passiamo sotto silenzio le conseguenze di questa uscita di Semyon Ivanovic è soltanto perché ci sta sinceramente a cuore la sua reputazione in tal modo si fece la fama di misantropo e di persona incurante delle convenienze della società si riscontrò inoltre che nel suo carattere vera assai di bizzarro e neppure in ciò davvero si sbagliavano dato che più di una volta fu notato che Semyon Ivanovic talvolta si smarriva e seduto al suo posto con la bocca spalancata e la penna sollevata in aria come assiderato pietrificato assomigliava piuttosto all'ombra di un essere ragionevole che a un essere ragionevole in carne ed ossa non di rado accadeva che qualche signore innocente distratto incontrando improvvisamente il suo sguardo fuggente torbido e alla ricerca di qualcosa fosse preso dalla trepidazione si smarrisse e immediatamente tracciasse su qualche carta importante uno sgorbio o qualche parola del tutto fuori luogo in decorosa condotta di Semyon Ivanovic turbava e offendeva ogni persona davvero a modo nessuno infine dubito più della direzione strampalata presa dalla testa di Semyon Ivanovic quando un bel mattino per tutto l'ufficio si sparse la voce che il signor Prociarein aveva spaventato lo stesso Demid Vasiljevic da che incontrandolo nel corridoio era stato così strano e bizzarro da costringerlo a farsi da parte della malefatta di Semyon Ivanovic infine giunse voce fino a lui stesso il quale non appena gliene fu riferito immediatamente si alzò passò con cautela in mezzo ai tavoli e alle sedie raggiunse il vestibolo staccò con le proprie mani il suo mantello lo indossò e sparì a tempo indeterminato se fosse spaventato o fosse per qualche altro motivo non lo sappiamo ma né a casa né in ufficio per qualche tempo fu possibile rintrazzarlo noi non cercheremo di spiegare la sorte di Semyon Ivanovic con la piega davvero bislacca assunta dal suo carattere ma tuttavia non possiamo esimerci dal far osservare al lettore che il nostro eroe era una persona riservata assolutamente quieta e che fino al momento in cui era capitato in compagnia con altri aveva vissuto in una totale impenetrabile solitudine e si era distinto per il suo fare silenzioso e perfino per così dire misterioso già che durante tutto il periodo della sua permanenza a Peschi era rimasto a giacere sul suo letto dietro ai paraventi senza parlare e non aveva intrattenuto rapporto con alcuno entrambi i suoi vecchi coinquilini vivevano esattamente allo stesso modo anche essi avevano un fare per così dire misterioso e anche essi erano rimasti a giacere quindici anni dietro ai paraventi e in una quiete patriarcale si erano susseguiti uno dopo l'altro giorni e ore felici e assonnati e poiché tutto intorno a loro procedeva immutato e regolare né Semyon Ivanovic né Justinia Fiodorovna ormai si ricordavano più bene quando la sorte avesse unito le loro vite saranno di essi ormai quindici o addirittura vent'anni buoni diceva a volte ai suoi nuovi inquilini che lui piccioncino si è stabilito da me pace all'animuccia sua è perciò del tutto naturale che l'eroe del nostro racconto che non era assolutamente abituato alla compagnia fosse rimasto assai sgradevolmente sorpreso quando esattamente un anno prima lui persona posata e modesta all'improvviso si era ritrovato in mezzo a una combriccola rumorosa e irrequieta di una decina di giovanotti i suoi nuovi coinquilini e compagni la scomparsa di Semen Ivanovic provocò non poco subbuglio nei diversi angoli dell'appartamento in primo luogo perché egli era il favorito in secondo luogo perché il suo passaporto che si trovava in custodia presso la padrona risultò in quell'occasione inavvertitamente smarrito Iustinia Fiodrovna levò alti guai risorsa a cui ricorreva in tutte le circostanze critiche per due giorni esatti seguitò a rimproverare a strapazzare i suoi inquilini ripetendo come una cantilena che avevano perseguitato il suo pensionante al pari di un pulcino e che lo avevano portato alla rovina sempre gli stessi perfidi schernitori poi il terzo giorno cacciò fuori tutti con incarico di ricercare e trovare il fuggitivo ad ogni costo vivo o morto la sera per primo rientrò lo scrivano Sudbin che annunciò di averlo rintracciato di aver visto il fuggitivo al mercato delle pulci o in altri luoghi di averlo seguito di essergli si avvicinato ma di non aver avuto il coraggio di rivolgergli la parola era stato poco lontano da lui anche durante l'incendio quando era andata a fuoco una casa nel vicolo Crivoi mezz'ora dopo compasero Okianov e Raznoinek Kantareff i quali confermarono quanto aveva riferito Sudbin parola per parola anche essi lo avevano seguito da vicino camminando a non più di dieci passi da lui ma anche essi non avevano osato rivolgergli la parola entrambi avevano notato che Semyan Ivanovic era in compagnia dell'accattone ubriacone sopraggiunsero infine anche tutti gli altri inquilini e dopo aver ascoltato attentamente conclusero che Prociarein ora non doveva trovarsi lontano e che non avrebbe tardato ad arrivare ma che essi sapevano già in precedenza che egli andava in giro con l'accattone ubriacone l'accattone ubriacone era un individuo pessimo facinoloso e servile e tutto stava ad indicare che egli avesse chissà come irretito con le sue adulazioni Semyan Ivanovic questi aveva fatto la sua apparizione esattamente una settimana prima della scomparsa di Semyan Ivanovic insieme al suo compare Remnef aveva vissuto per breve tempo in un angolo aveva raccontato che soffriva per la giustizia che in precedenza aveva prestato servizio in provincia che era arrivato da loro un ispettore che a causa del suo amore per la giustizia lui e la sua compagnia erano caduti in disgrazia che era venuto a Pietroburgo e si era gettato ai piedi di Porfiri Grigorievich che lo avevano sistemato in un ufficio grazie a una raccomandazione ma che per crudelissima persecuzione del destino lo avevano licenziato anche da lì per il fatto che l'ufficio stesso era stato soppresso in seguito a una ristrutturazione ma lui non era stato incluso nel nuovo organico ristrutturato degli impiegati tanto per chiare inettitudine alle faccende d'ufficio quanto anche a causa della sua attitudine a una certa faccenda del tutto estranea e tutto questo sempre per amore della giustizia nonché per i maneggi dei suoi nemici terminato il suo racconto nel corso del quale il signor Cimoveikin aveva ripetutamente baciato il suo austero e non rasato amico Remnef egli si era inchinato fino a terra a turno davanti a ciascuna delle persone presenti nella stanza senza dimenticare nemmeno la donna di fatica ad votia chiamandoli tutti i suoi benefattori e spiegando che lui era una persona indegna importuna vile turbolenta e sciocca e pregando quelle brave persone di compatire la sua triste sorte e la sua semplicità dopo aver così implorato protezione il signor Cimoveikin si era dimostrato un buon tempone ed era diventato allegrissimo aveva baciato la mano ad Ustinia Fiodorovna nonostante questa modestamente si schernisse affermando che la sua mano era plebea non aristocratica e aveva promesso che la sera avrebbe mostrato a tutta la compagnia la sua bravura in una bellissima danza caratteristica il giorno dopo però la faccenda aveva avuto una triste conclusione fosse perché la danza caratteristica si era rivelata fin troppo caratteristica oppure perché secondo le parole di Ustinia Fiodorovna l'aveva svergognata e messa alla berlina mentre lei conosceva Jaroslav Ilie e solo che lo avesse voluto da un bel pezzo sarebbe stata già la moglie di un ufficiale superiore il fatto è che a Zimovieikin era toccato fare fagotto egli se n'era andato era ritornato era stato di nuovo cacciato vergognosamente aveva poi carpito l'attenzione e la simpatia di Semyan Ivanovic sottraendogli di passaggio un paio di pantaloni nuovi e infine aveva ora fatto nuovamente la sua comparsa in qualità di adulatore di Semyan Ivanovic non appena la padrona seppe che Semyan Ivanovic era vivo e vegeto e che quindi non occorreva più cercare il suo passaporto smise immediatamente di affliggersi e cominciò a tranquillizzarsi frattanto alcuni fra gli inquilini decisero di preparare un'accoglienza solenne per il fuggitivo ruppero il chiavistello e scostarono i paraventi dal letto dello scomparso spiegazzarono un po' le lenzuola tirarono fuori il famoso bauletto lo sistemarono sopra il letto da piedi nel letto infilarono la cognata ossia un fantoccio vestito con un vecchio scialle una cuffietta e una mantellina della padrone che assomigliava però a tal punto alla cognata che era facilissimo ingannarsi terminata la loro opera si misero in attesa per annunciare a Semyan Ivanovic non appena avesse fatto la sua comparsa che era giunta dalla provincia a sua cognata e si era installata dietro i parventi la poveretta ma ebbero un bel aspettare nell'attesa Mark Ivanovic fece in tempo a perdere al gioco con gli inquilini Prepolovenko e Kanterev metà del suo stipendio mensile e Okianov si arrossò e si gonfiò il naso giocando a noschi e ai tre foglietti la donna di fatica Advotia riuscì a dormire quasi a sazietà e ben due volte si accinse ad alzarsi per andare a prendere la legna e accendere la stufa mentre Zinovi Prokofievicz si inzuppò fino all'osso a furia di correre ogni momento fuori nel cortile a chiedere di Semian Ivanovic ma non comparve nessuno né Semian Ivanovic né la cattone ubriacone infine tutti si coricarono lasciando in ogni caso la cognata dietro i paraventi e solo alle 4 del mattino si sentì bussare alla porta ma così forte da ricompensare pienamente coloro che erano rimasti in attesa di tutte le gravi fatiche che avevano affrontato era proprio lui Semian Ivanovic il signor Prokorein ma in uno stato tale che tutti lanciarono un'esclamazione di meraviglia e a nessuno passò nemmeno per la testa il pensiero della cognata lo scomparso comparì privo di sensi o per meglio dire fu trasportato dentro sulle spalle da un povero diavolo di vetturino notturno lacero tutto inzuppato e tremante alla padrona che gli chiedeva dove mai quello sciagurato si fosse preso una simile sbronza il vetturino rispose che non era ubriaco e che non aveva bevuto neppure una goccia glielo assicurava ma invece era svenuto oppure l'aveva preso il tetano o forse gli era venuto un colpo allora presero a esaminare il colpevole appoggiandolo per comodità contro la stufa e si avvidero che effettivamente non c'era traccia di ubriachezza e neppure lo aveva preso un colpo ma si trattava di un qualche altro malanno poiché Semyon Ivanovic non riusciva neppure a muovere la lingua ma era scosso da una sorta di spasimo e solo sbatteva le palpebre fissando smarrito ora l'uno ora l'altro degli astanti abbigliati in foggia notturna presero poi a interrogare il vetturino per sapere dove lo avesse raccolto da certi tali di Colonna rispose il diavolo li conosce signori non signori ma dei tipi allegri che facevano Baldoria sono stati loro a consegnarvelo in questo stato che avessero fatto Baruffa forse oppure lo avesse preso lo spasimo Dio solo sa quello che è successo però erano dei signori allegri bravi presero dunque Semyon Ivanovic lo sollevarono sulle spalle di uno o due dei più robusti e lo portarono sul letto ma quando Semyon Ivanovic secolicandosi avvertì la cognata e urtò con i piedi il suo sacro bauletto esplosi in imprecazioni si tirò su quasi a sedere e tremando e sussultando tutto cercò di occupare con le braccia e con tutto il corpo quanto più posto poté sul letto mentre lanciava sui circostanti sguardi frementi e stranamente decisi come a dir loro che sarebbe morto piuttosto che cedere a chi che sia la benché minima briciola del suo misero ben di Dio Semyon Ivanovic rimase a letto due o tre giorni ermeticamente chiuso dietro i paraventi e separato in questo modo da tutto il creato e da tutte le sue vane agitazioni come si conviene l'indomani stesso tutti si scordarono di lui il tempo frattanto volò via con il suo ritmo abituale e le ore si succedettero alle ore e i giorni ai giorni sul capo appesantito e ardente del malato creava una sonnolenza che si alternava a una specie di delirio ma giaceva tranquillo senza emettere gemiti né lamentarsi anzi era diventato ancora più quieto taceva e sopportava appiattendosi sul suo letto come la lepre sentendo il frastuono della caccia si acquatta a terra per la paura a tratti nell'appartamento si insinuava un prolungato malinconico silenzio segno che tutti gli inquilini se ne erano andati al lavoro e Semyon Ivanovic svegliandosi poteva svagare la propria tristezza quanto voleva tendendo l'orecchio ai rumori della cucina lì accanto dove la padrona sfaccendava oppure al monotono ciabattare delle scarpe scalcagnate della serva ad votia per tutte le camere quando questa sospirando e brontolando rassettava sfregava e spolverava nei diversi angoli per fare ordine ore intere trascorrevano così intontite pigre sonnolente tediose simili all'acqua che sgocciolava sonoramente e monotonamente in cucina nel rubinetto del lavandino finalmente tornavano i pensionati a uno a uno oppure a frotte e Semyon Ivanovic poteva stare a suo agio ad ascoltarli mentre se la prendevano col tempo chiedevano da mangiare facevano chiasso fumavano si ingiuriavano facevano pace giocavano a carte e facevano tintinnare le tazze accendendosi a bere il tè ma finalmente Semyon Ivanovic faceva allora uno sforzo per alzarsi e unirsi ad essi secondo le buone regole per la preparazione della bevanda ma all'istante ricadeva nel torpore e in sogno gli pareva di essere seduto già da un pezzo alla tavola apparecchiata per il tè partecipando alla conversazione e che Sinovi Prokofievic avesse già avuto il tempo cogliendo l'occasione di inserire nel discorso un certo progetto sulle cognate e i rapporti morali delle svariate brave persone con esse a questo punto Semyon Ivanovic si affrettava a giustificare e a replicare ma la potente regolamentare frase è stato sovente notato volando contemporaneamente fuori da tutte le labbra troncava ogni sua obiezione e a Semyon Ivanovic non restava altro che riprendere a sognare che quel giorno era il primo del mese e che all'ufficio avrebbero distribuito gli stipendi aprendo la busta sulle scale dopo essersi rapidamente guardato intorno si affrettava a tirar fuori una buona metà del legittimo compenso da lui ricevuto e a nasconderla in uno stivale poi sempre lì sulle scale senza far minimamente attenzione che ciò accadeva in sogno dentro al suo letto decideva di dare immediatamente non appena entrato in casa quanto aspettava alla padrona per il vitto e l'alloggio poi di comprare qualcosa di quello che occorreva e di mostrare a chi conveniva come senza averne l'intenzione ed inavvertitamente di aver subito una ritenuta di essere rimasto senza un centesimo per cui non era in grado di inviare assolutamente nulla alla cognata e poi rattristarsi per lei parlarne molto l'indomani e il giorno successivo e dopo una decina di giorni accennare di nuovo di passaggio alla sua indigenza così che i compagni non se ne dimenticassero dopo aver preso questa risoluzione notava che anche Andriei Efimovic quello metto minuscolo calvo ed estremamente silenzioso che in ufficio era seduto a tre stanze più in là di Semyan Ivanovich e che in vent'anni non aveva mai scambiato con lui neppure una parola era anche lui lì sulle scale anche lui contava i suoi rubli d'argento e scuotendo la testa gli diceva soldini signor mio se non ci fossero niente casa signor mio aggiungeva con tono severo mentre scendeva per le scale e quando era ormai sulla porta concludeva e io signor mio ne ho sette a questo punto lo metto calvo anche egli evidentemente senza rendersi affatto conto di stare agendo in qualità di fantasma e non da sveglio e nella realtà faceva segno con la mano ad un arsène a un palmo esattamente da terra e poi abbassandola borbottava che il maggiore andava al ginnasio quindi dopo aver gettato uno sguardo indignato su Semyan Ivanovich come se fosse il signor Prociarein il colpevole del fatto che ne aveva ben sette si calava fin sugli occhi il suo capelluccio dava una scrollata al suo mantello svoltava a sinistra e scompariva Semyan Ivanovich ne era estremamente spaventato benché fosse perfettamente convinto della propria innocenza quanto alla spiacevole compresenza di quei sette sotto uno stesso tetto in effetti sembrava proprio che risultasse che il colpevole non fosse altri che Semyan Ivanovich preso dallo spavento allora si apprestava a correre via perché gli sembrava che quel signore calvo tornasse indietro e lo inseguisse con l'intenzione di frugargli nelle tasche e di togliergli tutto il suo stipendio forte del suo inconfutabile argomento dei sette e negando decisamente ogni possibile relazione di qualunque cognata con Semyan Ivanovich il signor Pocherein correva correva a perdifiato accanto a lui correva una moltitudine di persone facendo tintinnare i soldi dello stipendio nelle tasche posteriori delle proprie misere marcine a Codamozza infine accorreva tutta la popolazione risuonavano le trombe dei pompieri e la folla a ondate lo trasportava quasi sulle spalle verso quello stesso incendio al quale aveva assistito l'ultima volta in compagnia dell'accattone ubriacone l'ubriacone aliasi il signor Timo Viejkin che si trovava già lì accoglieva Semyan Ivanovich si agitava terribilmente lo prendeva per mano e lo conduceva nel punto dove la folla era più fitta proprio come quella volta nella realtà tutto intorno rumoreggiava e rombava una folla sterminata che aveva invaso tutta la riva della fontanca tra i due ponti e tutte le vie e i vicoli adiacenti proprio come allora Semyan Ivanovich assieme all'ubriacone veniva tracinato via oltre non so quale recinzione dove si venivano afferrate come in una morsa dentro all'enorme cortile di un deposito di legname traboccante di spettatori accorsi dalle vie adiacenti dal mercato delle pulci e da tutte le case le trattorie e le bettole dei dintorni Semyan Ivanovich vedeva tutto come allora e provava le stesse sensazioni nel vortice della febbre e del delirio cominciavano a balenargli davanti agli occhi una quantità di strane facce egli ne riconosceva qualcuna uno era quel signore medesimo che incuteva a tutti una soggezione straordinaria alto un sasen e con dei baffoni lunghi un arsene che durante l'incendio era ritto dietro le spalle di Semyan Ivanovich e da dietro gli esprimeva il suo incoraggiamento quando il nostro eroe da parte sua preso da una sorta di esaltazione si era messo a pestare i piedi come volendo in tal modo applaudire all'impavido lavoro dei pompieri che egli nel rialzo sul quale si trovava poteva perfettamente osservare un altro era quel giovanotto aitante dal quale il nostro eroe si era guadagnato un bernoccolo quando questi lo aveva sollevato su un'altra recinzione mentre si apprestava a scavalcarla forse per salvare qualcuno gli balenava davanti anche la figura di quel vecchio dalla faccia emorroidale che indossava una consunta palandrana imbottita legata alla vita con non so che cosa il quale uscito di casa prima dell'incendio per recarsi alla bottega a comprare delle gallette e del tabacco per un suo pensionante ora cercava di farsi strada con la brocca del latte ed un quartino in mano attraverso la folla verso l'edificio dove stavano bruciando sua moglie e sua figlia e trenta rubli e cinquanta copè che nascosti in un angolo sotto il materasso ma più distintamente di tutti gli altri ne appariva quella povera donna sventurata donnetta che spesso aveva già veduto nei suoi sogni durante la sua malattia se la figurava così come era allora con le laptee ai piedi con una stampella con una gerla di vimini intrecciati sulle spalle e coperta di cenzi costei gridava più forte dei pompieri e della folla agitando la stampella e le braccia che i suoi figli l'avevano cacciata da non si sa dove e che in questo frangente erano andate smarrite anche due monete da cinque i figli e le monete da cinque le monete da cinque e i figli turbinavano nel suo eloquio in una incomprensibile e profonda confusione dalla quale tutti si ritraevano dopo vani sforzi di capirci qualcosa ma la donnetta non si acquiedava e continuava a gridare e a ululare gesticolando senza rivolgere apparentemente alcuna attenzione né all'incendio nei pressi del quale era stata trascinata la folla mentre camminava per la strada né alla gente che restava attorno né alle disgrazie altrui né persino ai tizzoni e alle faville che già avevano cominciato a piovere sugli astanti infine il signor Procerain si sentiva invadre dal terrore poiché comprendeva chiaramente che tutto quello che stava accadendo non avveniva per caso e che lui non se la sarebbe passata liscia ed effettivamente subito dopo non lontano da lui saliva sopra una catasta di legna un contadino che indossava un armiac lacero e senza cintura coi capelli e la barba bruciacchiati e cominciava ad aizzare la folla contro Semjan Ivanovic la folla si accalcava sempre più fitta il contadino urlava e agghiacciato dal terrore il signor Procerain improvvisamente si ricordava che quel contadino era il vetturino che esattamente cinque anni prima egli aveva ingannato in maniera così disumana svignandosela senza pagare attraverso un edificio con doppio ingresso sollevando nella corsa i calcagni come se stesse correndo sopra una lastra roventata il signor Procerain indisperato avrebbe voluto gridare ma la voce gli moriva in gola egli sentiva come la folla in velocità lo serrava tra le sue spire simile a un serpente multicolore schiacciandolo e soffocandolo a questo punto compiendo uno sforzo sovrumano egli si svegliò e si accorse che stava bruciando che tutto il suo angolo stava bruciando ardevano i paraventi ardeva tutto l'appartamento insieme a Ustini a Fiodorovna e a tutti i suoi pensionanti ardeva il suo letto il cuscino la coperta il baule e persino il suo prezioso materasso Samyangivanovic baltò su afferrò il materasso e si mise a correre trascinandoselo dietro ma nella camera della padrona dove il nostro eroe era piombato così come si trovava contro ogni decenza scalzo e in camicia lo acciuffarono lo ridussero all'impotenza lo riportarono indietro vittoriosamente dietro i paraventi i quali per inciso non ardevano affatto mentre piuttosto ardeva la testa del signor Samyangivanovic e lo rimisero a letto allo stesso modo il suonatore d'organetto l'acero con la barba lunga e arcigno ripone nella cassetta da viaggio il suo pulcinella il quale dopo averne fatte di tutti i colori aver bastonato tutti quanti e venduto l'anima al diavolo termina la propria esistenza fino al prossimo spettacolo dentro allo stesso baule assieme al diavolo medesimo agli alberi a Petrusca e a Mademoiselle Caterina e al suo fortunato amante il capitano immediatamente tutti i giovani anziani si fecero attorno a Samyangivanovic piazzandosi uno accanto all'altro attorno al suo letto e fissando il malato con volti pieni di attesa nel frattempo egli ritornò in sé ma fosse per la vergogna o per chi altro cominciò con tutte le sue forze a tirarsi sopra la coperta desiderando verosimilmente sottrarsi sotto di essa alla commiserazione dei presenti infine Mark Ivanovic ruppe per primo il silenzio e da persona intelligente cominciò a dire con tono estremamente dolce che bisognava che Samyangivanovic si tranquillizzasse completamente che essere malati è una cosa brutta e vergognosa che soltanto i bambini fanno così che bisognava guarire e poi tornare anche in ufficio Mark Ivanovic terminò il suo discorso con un piccolo scherzo dicendo che per i malati non era stato ancora fissato uno stipendio e che dato che sapeva per certo che anche il grado relativo era insignificante tale titolo o stato quantomeno non recava grandi sostanziali vantaggi in una parola era evidente che tutti erano sinceramente partecipi alla sorte di Samyangivanovic ed erano pieni di compassione ma lui con incomprensibile rozzezza continuava a rimanersene a giacere sul letto a tacere e a tirarsi sopra testardamente sempre più la coperta Mark Ivanovic tuttavia non si diede per vinto e facendo uno sforzo su se stesso disse di nuovo qualche cosa di molto dolce a Samyangivanovic ben sapendo che era così che ci si deve comportare con una persona malata ma Samyangivanovic non volle neppure ascoltare e al contrario dopo aver mugolato qualcosa attraverso i denti con l'aria più diffidente del mondo all'improvviso cominciò a guardare di traverso nella maniera più sgradevole a destra e a manca di sottecchi col desiderio pareva di ridurre in polvere tutti i suoi commiseratori a questo punto non era più il caso di fare complimenti Mark Ivanovic perduta la pazienza e vedendo che quell'individuo si era semplicemente ripromesso di essere caparbio offeso e addirato dichiarò chiaro e tondo e ormai senza dolci perifrasi che era ora che si alzasse che non c'era motivo che se ne rimanesse a giacere su due guanciali che gridare giorno e notte di incendi cognate ubriaconi serrature bauri e il diavolo sa ancora di che era una cosa sciocca indecorosa e avvilente per un uomo infatti se Semyon Ivanovic non desiderava dormire perlomeno non doveva impedire agli altri di farlo e che tutto questo doveva fare la cortesia di tenerselo bene a mente il discorso fece il suo effetto perché Semyon Ivanovic rivolgendosi all'oratore immediatamente dichiarò con fermezza sebbene con voce ancora debole e rauca sta zitto tu moccioso parli a vanvera e sei una malalingua mi senti tacco sei forse un principe capisci la solfa sentendo queste parole Mark Ivanovic prese fuoco ma ricordandosi che aveva a che fare con un malato magnanimamente rinunciò ad offendersi e al contrario tentò di ricondurlo alla ragione ma di nuovo dovete azzittirsi perché Semyon Ivanovic immediatamente osservò che non avrebbe permesso che si scherzasse con lui e che non gliene importava nulla che Mark Ivanovic componesse versi seguì un silenzio di due minuti finalmente rimessosi dalla sorpresa Mark Ivanovic dichiarò con franchezza e in maniera chiara e assai eloquente che Semyon Ivanovic doveva tenere a mente che si trovava in mezzo a persone nobili e che voi egreso signore dovreste sapere come ci si contiene quando si ha a che fare con un gentiluomo all'occasione Mark Ivanovic sapeva parlare con eloquenza e amava incutere soggezione ai suoi interlocutori dal canto suo Semyon Ivanovic parlava e agitava probabilmente per la lunga consuetudine al silenzio in maniera piuttosto sconnessa e inoltre quando per esempio gli accadeva di pronunciare una frase lunga mano a mano che egli si addentrava in essa ogni parola pareva ne generasse una seconda la seconda non appena venuta la luce una terza la terza una quarta e così via così che se ne impiva la bocca cominciava a balbettare e le parole sovrabbondanti infine cominciavano a volargli fuori dalla bocca nel disordine più pittoresco ecco perché Semyon Ivanovic che pure era una persona intelligente a volte diceva delle sciocchezze spaventose tu menti ribatte adesso boccioso giovanotto dissoluto che non sei altro ma vedrai che tra poco ti toccherà metterti la bisazza in spalla e andare in giro a chiedere l'elemosina tu libero pensatore depravato ecco pigliati su porta via state ancora delirando per caso Semyon Ivanovic enti gli rispondeva Semyon Ivanovic delira lo stolto l'ubriacone delira il cane delira ma il savio obbedisce alla ragione tu mi senti non capisci nulla sei un depravato sapientone libero stampato ed un tratto andrai a fuoco e nemmeno ti accorgerai che la testa ti sia incendiata hai capito com'è la storia sì anzi come sarebbe a dire Semyon Ivanovic che mi si incendierà la testa ma Chivanovic non terminò neppure la frase da che tutti si avviderò chiaramente che Semyon Ivanovic non era ancora ritornato in sé e continuava a delirare ma la padrona non poté trattenersi e lì per lì osservò che la casa nel vicolo storto era andata a fuoco per colpa della sgualdrina calva che laggiù c'era una sgualdrina calva e che quella aveva acceso una candela e aveva dato fuoco al suo stambugio ma da lei questo non sarebbe successo e negli angoli tutto sarebbe rimasto intatto a proposito Semyon Ivanovic esclamò fuori di sé Zinovi Prokofievic interrompendo la padrona Semyon Ivanovic tale e cotale voi siete un uomo sorpassato un semplicione credete che si stia scherzando quando vi si dice di vostra cognata e degli esami di ballo e così è questo che pensate da sentire tu allora rispose il nostro eroe tirandosi su dal letto con le sue ultime forze e adirandosi all'estremo limite contro i suoi commiseratori chi è il buffone tu sei il buffone cane di un buffone uomo ridicolo ma io su tuo ordine signore non scherzo mi senti moccioso non sono signor mio il tuo servitore qui Semyon Ivanovic avrebbe voluto aggiungere ancora qualcosa ma ricadde sul letto spostato i commiseratori rimasero sconcertati tutti spalancarono la bocca perché si erano resi conto ora su che strada Semyon Ivanovic ci fosse incamminato e non sapevano da che parte prenderlo non tratto la porta della cucina ci golò si aprì e l'amico ubriacone aliasi signor Simo Veikin timidamente fece capolino annusando con cautela l'aria come era suo costume sembrava che lo stessero aspettando tutti gli accennarono di avvicinarsi al più presto e Simo Veikin oltremodo rallegrato senza togliersi il mantello in fretta e con atteggiamento totalmente disponibile si fece strada verso il letto di Semyon Ivanovic era evidente che Simo Veikin aveva trascorso tutta la notte in piedi occupato in chissà quali lavori importanti il lato destro della sua faccia era impiastricciato di non si sa quale sostanza le palpebre gonfie erano umidice per l'umore che gli usciva dagli occhi infiammati la marsina e tutti i suoi indumenti erano laceri e inoltre tutto il lato destro del suo abito era spruzzato di qualcosa di estremamente ripugnante forse di fango di qualche pozzanghera sotto braccio teneva un violino di chissà chi che stava provando a vendere chissà dove a quanto pareva non si erano sbagliati chiamandolo in aiuto già che egli resosi subito conto di come stessero le cose rivolgendosi a Semyon Ivanovic che faceva le bizze con l'aria della persona che gode di autorità e che riconosce i suoi polli gli disse ma che fai Senka alzati ma che fai Senka approccierei tu che sei saggio obbedisci alla ragione vada che ti tiro giù dal letto se fai il gradasso non fare il gradasso questo breve ma efficace discorso meravigliò gli astanti i quali ancor più si meravigliarono quando videro che Semyon Ivanovic dopo essere stato ad ascoltare tutto ciò e vedendosi dinnanzi un simile individuo si intimidì e cadde in un tale stato di sbarrimento e di confusione che a malapena è solo tra i denti e in un sussurro si risolse a borbottare l'indispensabile replica vattene tu disgraziato disse tu disgraziato ladro senti mi capisci sei proprio un asso principe un asso duomo no fratello rispose Zimovieikin strascinando le vocali conservando tutta la sua presenza di spirito così non va saggio fratello Prociarein sei davvero un Prociarein duomo proseguì Zimovieikin facendo lievemente il verso a Semyon Ivanovic e guardandosi attorno con soddisfazione non fare il gradasso chetati segna chetati altrimenti farò rapporto racconterò tutto fratellino mio capisci a quanto pare Semyon Ivanovic capì perfettamente perché sussultò udendo la conclusione del discorso e all'improvviso prese a guardarsi intorno in fretta e con aria del tutto smarrita soddisfatto dell'effetto ottenuto il signor Zimovieikin avrebbe voluto proseguire ma Mark Ivanovic precedette il suo zelo e approfittando del fatto che Semyon Ivanovic si era zittito ammanzito e quasi del tutto calmato cominciò ad ammaestrare lungamente e ragionevolmente quell'irrequieto dicendogli che carezzare simili pensieri come quelli che aveva lui adesso in testa in primo luogo era inutile in secondo luogo era non solo inutile ma persino dannoso infine non era tanto dannoso quanto persino del tutto immorale in quanto Semyon Ivanovic induceva tutti in tentazione e dava il cattivo esempio da un tale discorso tutti si attendevano un benefico effetto tanto più che Semyon Ivanovic era adesso del tutto quieto e reagiva con moderazione ebbe inizio una pacata discussione si rivolse ora a lui fraternamente chiedendogli come mai si fosse tanto intimidito Semyon Ivanovic rispose ma allusivamente gli replicarono Semyon Ivanovic a sua volta replicò ci fu un'altra replica per parte e a questo punto ormai si intromisero tutti i giovani e i anziani perché il discorso era accaduto su un argomento così straordinario e importante che decisamente nessuno sapeva come esprimersi in proposito la discussione infine sfociò nell'impazienza l'impazienza nelle grida e le grida addirittura nelle lacrime e Mark Ivanovic alla fine con la schiuma alla bocca per la rabbia si allontanò dichiarando che non aveva mai visto un simile attaccavrighe Oplenayev sputò Okianov si spaventò Azinovi Prokofievich spuntarono le lacrime quanto Austinia Fiodorovna si mise a urulare ripetendo come una cantilena che se ne andava l'inquilino era uscito di senno sarebbe morto povero giovane senza passaporto e lei era una povera orfana e l'avrebbero fatta morire con tutte quelle preoccupazioni in una parola tutti infine si avvidero chiaramente che la semina era stata buona che tutto quello che era avvenuto loro in testa di seminare si era moltiplicato per cento che il terreno era fertile e che in loro compagnia Semian Ivanovic era riuscito a imbrogliarsi la testa in maniera tale che non c'era più rimedio tutti tacquero perché se vedevano che Semian Ivanovic era spaventato di tutto questa volta si spaventarono anche essi stessi questa volta si spaventarono anche essi stessi i suoi commiseratori come urlò Mark Ivanovic di che cosa dunque avete paura che cosa vi ha fatto dar di volta il cervello ma chi vi presta attenzione signor mio avete forse il diritto di temere chi siete voi che cosa siete voi uno zero signor mio una tonda frittella ecco che cosa siete perché la fate lunga perché una donnetta è stata scacciata per la strada allora anche voi dovete essere investito perché un qualche ubriacone non ha saputo badare alla propria tasca allora anche a voi toglieranno la falda del vestito perché una casa è bruciata dovrà bruciare anche la vostra testa eh è così signor mio è così paparino è così tu 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 sciocco borbottò semion ivanovich ti mangeranno via il naso tu stesso anzi te lo mangerai tu stesso assieme al pane e neppure te ne accorgerai un tacco sia pure un tacco urlò marchivanovich che non avevo udito bene sono un uomo che non vale più di un tacco forse ma non sono io che devo sostenere un esame non ho da ammogliarmi né da imparare a ballare io non rischio di perdere il posto signor mio com'è paparino così vi manca lo spazio vi sprofonda forse il pavimento sotto i piedi che credi forse che chiederanno il tuo parere lo chiuderanno e addio cosa che cosa chiuderanno cos'altro vi siete inventato eh l'ubriacone l'hanno ben buttato fuori bene e con questo si tratta di un ubriacone ma voi ed io siamo degli uomini sì degli uomini ma quello oggi c'è ed un tratto non c'è più cosa quale è quello ma quello è l'ufficio l'ufficio ma benedetto uomo quello l'ufficio è necessario è necessario sentilo quello oggi è necessario domani è necessario ed ecco che dopo domani che che non è non è più necessario l'ho sentita questa storia ma in tal caso vi daranno un anno di stipendio siete come santo maso proprio come santo maso siete un uomo diffidente in un altro posto si terrà conto della vostra anzianità lo stipendio e se lo stipendio te lo mangi oppure se vengono i ladri e si portano via i soldi ma io ho una cognata capisci una cognata razza di chiodaiuolo la cognata siete un uomo sì un uomo io sono un uomo mentre tu sapientone sei uno sciocco mi senti chiodaiuolo sei un chiodaiuolo d'uomo ecco ma io non sto dietro ai tuoi scherzi ma quello è un posto tale che si prende ed ecco che il posto viene soppresso anche Demid mi senti anche Demid Vasiljevic dice che il posto si sopprime voi sempre con questo Demid Demid siete davvero un buon tempone ma sapete bene che proprio così si chiude la porta e basta ecco di senza posto veditela poi tu poi ma insomma voi state semplicemente contando frottole o vi ha dato del tutto di volta il cervello ditecelo con semplicità cosa c'è di strano riconoscetelo se le cose stanno così non c'è da vergognarsi vi ha dato di volta il cervello paparino eh mi ha dato di volta il cervello è uscito di senno si odìa esclamare tutto attorno e tutti si torcevano le mani per la disperazione mentre la padrona aveva afferrato Mark Ivanovic con entrambe le braccia perché questi non tormentasse più Semyan Ivanovic sei un pagano sei un'anima pagana sei un saggio tu lo improdava Zimovieikin Semya tu sei una persona che non se la prende a male sei grazioso amabile tu sei semplice sei virtuoso mi hai sentito è per la tua virtù che accade tutto questo e turbolento lo stipendio sono io sono io la cattone ma ecco che l'uomo buono non mi ha abbandonato se non altro mi fanno onore vedi e io rendo grazie a loro e alla padrona vedi mi inchino fino a terra davanti a loro ecco il mio dovere faccio il mio dovere padroncina a questo punto Zimovieikin eseguì tutto attorno persino con una certa pedantesca dignità il suo inchino fino a terra dopo di ciò Semyan Ivanovic avrebbe voluto riprendere a parlare ma questa volta non glielo permisero tutti si intromisero facendo a gara a supplicarlo ad assicurarlo a confortarlo e ottennero così persino che Semyan Ivanovic provasse vergogna e infine con un filo di voce pregasse che gli permettessero di spiegarsi allora ecco sta bene disse io sono grazioso quieto mi senti e virtuoso fidato e fedele fino all'ultima goccia di sangue sai tu moccioso asso mettiamo pure che ci sia il posto ma io sono povero e così me lo toglieranno mi senti tu asso taci ora cerca di capire me lo toglieranno ed ecco fatto il posto fratello c'è e poi non c'è più capisci e io fratello dovrò andare in giro con la bisaccia in spalla mi senti Senka strilò fuori di sezimo Vieikin coprendo questa volta con la sua voce tutto il frastuono che si era sollevato tu sei un libero pensatore ne farò subito rapporto che ti sente in testa che cosa sei sei forse una testa calda testa di montone le teste calde e gli stupidi mi senti le mettono alla porta senza preavviso ma cosa sei dunque ecco allora quello cosa quello ma va un po' col tuo quello che cosa va un po' col tuo quello ecco lui è libero io sono libero e mentre te ne stai lì sdraiato ecco che salta fuori che cosa che sei un libero pensatore un libero pensatore Senka tu sei un libero pensatore alto gridò il signor crociarei facendo un gesto con la mano interrompendo il frastuono che si era alzato io non volevo dire questo intendimi cerca solo di intendermi razza di montone io sono quieto oggi sono quieto domani sono quieto e poi non sono più quieto divento villano bisognerebbe metterti una museruola ma vattene un po' libero pensatore ma che dite tonò infine Mark Ivanovic balzando su dalla sedia sulla quale si era seduto per riposarsi e correndo accanto al letto tutto agitato e fuori di sé per il dispetto e per la rabbia ma che dite siete un montone senza letto né tetto se siete forse solo voi al mondo forse che il mondo è fatto per voi siete forse una specie di Napoleone che cosa siete chi siete siete Napoleone siete Napoleone o no o rispondete signore siete Napoleone o no ma il signor Procerain non rispose neppure più a questa domanda non che egli si vergognasse di essere Napoleone o che gli mancasse il coraggio di prendersi una tale responsabilità no semplicemente non era ormai più in grado né di discutere né di parlare a proposito seguì una crisi di nervi minuscole lacrime sgorgarono improvvisamente dai suoi occhi grigi che brillavano di un fuoco febbrile egli si coprì il viso ardente con le mani ossute smagrite dalla malattia si sollevò sul letto e si inghozzando cominciò a dire che era davvero povero che era un uomo semplice così disgraziato che era stupido e ignorante e che quelle brave persone lo perdonassero lo proteggessero lo nutrissero lo dissetassero non lo abbandonassero nella sventura e Dio sa cos'altro ancora infilasse Simon Ivanovich nella sua cantilena mentre così diceva egli lanciava attorno sguardi pieni di selvaggio terrore come se da un momento all'altro si aspettasse che crollasse il soffitto o che sprofondasse il pavimento guardando quell'infelice tutti ne provavano compassione e i loro cuori si intenerirono la padrona si inghozzando come una donnetta e ripetendo la litania della sua condizione di orfana fece coricare di nuovo il malato sul letto Mark Ivanovich vista l'inutilità di disturbare la memoria di Napoleone fu preso anche lui da un accesso di benevolenza e si prodigò nei soccorsi altri per far a loro volta qualcosa proposero dell'infuso di lampone sostenendo che esso aveva un effetto immediato che guariva da tutto e che sarebbe stato molto gradito al malato ma Simoveichin all'istante troncò ogni discussione asserendo che in tali casi non c'è nulla di meglio di una buona dosi di camomilla selvatica quanto a Sinove Prokofievich questi essendo di buon cuore si inghozzava e aveva il viso inondato di lacrime pentendosi di aver spaventato Semyon Ivanovich con frottole di vario genere e colpito dalle ultime parole del malato che era davvero povero e che lo nutrissero si affrettò ad organizzare una colletta limitandola per il momento agli angoli tutti sospiravano ed esclamavano tutti erano pieni di compassione di amarezza e tutti nello stesso tempo si meravigliavano di come quell'uomo avesse potuto impaurirsi a tal punto e per quale ragione poi ancora avesse occupato un posto importante avesse avuto moglie e figli ancora lo avessero messo per qualche motivo sotto processo ma invece era un uomo che non aveva assolutamente nulla che non aveva altro che il suo bauletto e la sua serratura tedesca che se n'era stato vent'anni e passa sdraiato dietro ai paraventi in silenzio e non aveva conosciuto né il mondo né il dolore tutto preso dalla sua spilorceria e a un individuo simile ora all'improvviso saltava in mente per qualche parola vacua e sciocca di perdere completamente la bussola e di smarrirsi completamente perché al mondo era diventato penoso campare senza pensare che è penoso per tutti se soltanto avesse considerato questo ebbe a dire più tardi Okianov che è penoso per tutti non avrebbe perso la testa avrebbe cessato di fare le bizze e avrebbe tirato avanti in qualche maniera come si conviene per tutta la giornata non si fece altro che parlare di Semyon Ivanovic si recavano da lui si informavano su come stava lo confortavano ma verso sera egli ebbe altro a cui pensare che dar retta ai confortatori al poveretto venne una febbre altissima cadde nel delirio e perse conoscenza tanto che stavano quasi per andare a chiamare il dottore i pensionanti furono tutti d'accordo e si diedero reciprocamente la parola di vegliare e di calmare a turno Semyon Ivanovic per tutta la notte e se fosse accaduto qualcosa di svegliare tutti quanti a tale scopo per non addormentarsi si misero a giocare a carte avendo delegato al capezzale del malato l'ubriaco nel suo amico che si era accampato tutto il giorno nei vari angoli accanto al letto del malato e che aveva chiesto il permesso di pernottare da loro dato che si giocava senza soldi e il gioco pertanto era del tutto privo di interesse ben presto esso venne a noia così smisero di giocare poi si misero a discutere su non so quale argomento poi cominciarono a far baccano e a battere il pugno sul tavolo infine si ritirarono ciascuno nel proprio angolo e ancora a lungo si chiamarono l'un l'altro discutendo con tono risentito e poiché erano tutti arrabbiati nessuno ne volle più sapere di fare i turni di veglia e si addormentarono ben presto negli angoli scese il silenzio come in una cantina vuota tanto più che faceva un freddo terribile uno degli ultimi ad addormentarsi fu Okianov e non so se fosse in sogno raccontò poi oppure nella realtà ma mi è parso di vedere due uomini che parlavano accanto a me poco prima del mattino Okianov disse di aver riconosciuto Timovi Eikin che lì accanto aveva svegliato il suo vecchio amico Remnef quei due poi avevano confabulato a lungo assieme sussurrando poi Timovi Eikin era uscito e si era sentito come se cercasse di aprire la porta della cucina con la chiave la chiave assicurava la padrona era riposta sotto il suo cuscino ma quella notte era sparita infine affermò Cheianov nella sua deposizione gli era parso di udire che quei due si recassero dal malato dietro ai paraventi e accendessero una candela altro disse non sapeva perché gli occhi gli si erano chiusi e si era svegliato più tardi assieme a tutti gli altri quando tutti erano balzati giù dai loro letti nei loro angoli perché dietro ai paraventi era risuonato un urlo tale che avrebbe fatto saltare per aria anche un morto e a quel punto a molti era parso che la candela si spegnesse era scoppiato un pandemonio tutti si erano sentiti mancare il cuore e si erano precipitati verso quel grido ma nel frattempo dietro ai paraventi era scoppiato un parapiglia con urla in precazioni e il rumore di una zuffa avevano acceso la lampada e avevano scorto Timo Veikin e Remnef che si accapigliavano insultandosi rimproverandosi a vicenda e non appena li ebbero illuminati uno aveva gridato non sono stato io ma quel bandito mentre l'altro e precisamente Timo Veikin aveva gridato lasciami sono innocente sono pronto a giurarlo e l'uno nell'altro aveva più nulla di umano nel volto ma in un primo momento nessuno badò a loro il malato non era più al suo posto dietro ai paraventi subito divisero i litiganti e li trascinarono via e a quel punto scoprirono che il signor Prociarein giaceva sotto il letto evidentemente in stato di completa incoscienza con la coperta e il cuscino sopra cosicché sul letto rimaneva soltanto il nudo vecchio e bisunto materasso lenzuolo e del resto su di esso non ve ne erano mai state dopo aver tirato fuori Semyang Ivanovic lo distesero sopra il materasso ma subito si avvidero che non era il caso di darsi molto da fare perché era completamente caput le sue braccia si stavano rigedendo e non si reggeva in piedi tutti gli si fecero attorno e gli tremava e sussultava ancora un po' con tutto il corpo si sforzava di fare qualche gesto con le mani non riusciva a muovere la lingua ma ammiccava con gli occhi proprio nella maniera con cui si dice ammicca la testa ancora calda e viva tutta inondata di sangue appena mozzata dalla scura del carnefice infine tutto si andò smorzando si arrestarono anche i tremiti e i sussulti che precedono la morte il signor Procarein stirò le gambe il signor Procarein stirò le gambe e si avviò dove lo destinavano le sue buone azioni o i suoi peccati si fosse spaventato di qualcosa Semyon Ivanovic o avesse sognato qualcosa di brutto come rassicurava poi Remnef o il motivo fosse un altro non si sa il fatto sta comunque che se anche ora avesse fatto la sua apparizione l'ufficiale giudiziario e avesse personalmente annunziato a Semyon Ivanovic il suo licenziamento per libero pensiero turbolenza e ubriachezza e se anche dall'altra porta fosse entrata una qualche mendicante di mantellina affermando di essere la cognata di Semyon Ivanovic e se anche Semyon Ivanovic avesse ricevuto lì per lì 200 rubli di premio oppure infine se la casa si fosse incendiata e la testa di Semyon Ivanovic avesse preso fuoco lui forse ora non si sarebbe degnato di muovere neppure un dito a simili notizie mentre passava il primo momento di smarrimento mentre i presenti riacquistavano il dono della parola e cominciavano ad agitarsi a fare supposizioni ad avanzare dubbi a lanciare grida mentre Iustinia Fedorovna trascinava fuori di sotto il letto e il baure e frugava in fretta sotto il guanciale sotto il materasso e persino negli stivali di Semyon Ivanovic mentre sottoponevano a interrogatorio Remnef e Simoveikin l'inquilino Okianov che fino allora era stato l'inquilino meno perspicace più mansueto e più quieto improvvisamente manifestò una straordinaria presenza di spirito rivelando il suo speciale dono e talento afferrò il colbacco e approfittando della confusione sguscia fuori dell'appartamento e quando tutti gli orrori dell'anarchia ebbero raggiunto il loro culmine negli angoli fino ad allora pacifici e ora in subbuglio la porta si aprì e improvvisamente come neve sulla testa comparve dapprima un signore di nobile aspetto dal volto severo ma scontento dietro a lui comparve Jaroslav Ilie dietro a Jaroslav Ilie il suo seguito al gran completo e dietro a tutti costoro il confuso signor Okeanov il signore dall'aspetto severo ma nobile andò dritto difilato da Semyon Ivanovic lo palpeggiò fece una smorfia alzò le spalle e annunciò qualcosa di ormai ben noto e cioè che il defunto era ormai morto aggiungendo soltanto per parte sua che la stessa cosa era accaduta nel sonno pochi giorni prima a un assai rispettabile e importante signore il quale a sua volta aveva preso ed era morto a questo punto il signore dall'atteggiamento nobile ma scontento si allontano dal letto disse che lo avevano disturbato inutilmente ed uscì immediatamente Jaroslav Ilie prese il suo posto frattanto Remnev e Zimoveikin erano stati consegnati a chi di dovere interrogò qualcuno con abilità si impadronì del baule che la padrona stava già tentando di aprire rimise al loro posto gli stivali notando che erano tutti bucati e del tutto inutilizzabili chiese che venisse rimesso a posto il guanciale chiamò accanto a sé Okeanov domandò la chiave del baule che fu rinvenuta in tasca dell'amico ubriacone e solennemente in presenza di chi di dovere procedette all'apertura della proprietà di Semyon Ivanovic non mancava nulla due stracce un paio di calzini un fazzoletto un vecchio cappello alcuni bottoni delle vecchie suole e dei gambali di stivali in una parola c'ha un fusaglie vecchiume spazzatura c'ha fame maleodorante di buono c'era soltanto la serratura tedesca chiamarono Okeanov e lo interrogarono con severità ma Okeanov era pronto a confermare con giuramento quanto aveva detto chiesero che fosse loro mostrato il guanciale e lo esaminarono esso era sporco ma a parte questo assomigliava in tutto e per tutto a un guanciale passarono al materasso avrebbero voluto sollevarlo si arrestarono un momento per riflettere ma improvviso del tutto inaspettatamente qualcosa di pesante e di sonoro cadde sul pavimento si chinarono frugarono e scorsero un cartoccio di carta e dentro al cartoccio circa una decina di monete d'argento da un rublo disse Yaroslav Ilie indicando un buco nel materasso dal quale spuntavano crini e ciuffi di fibre esaminarono il buco e constatarono che esso era appena stato fatto con un coltello e che era lungo mezzo arsene infilarono una mano nella fenditura e ne tirarono fuori un coltello da cucina della padrona verosimilmente dimenticato lì nella fretta col quale era stato sventrato il materasso Yaroslav Ilie non aveva fatto in tempo a tirar fuori il coltello dal materasso e a dire di nuovo che da esso salto fuori un altro cartoccio e dietro a quello rotolarono fuori alla spicciolata due monete da mezzo rublo una da 25 copecche e poi alcuni spiccioli e un'antica e massiccia moneta da 5 copecche tutto ciò venne immediatamente afferrato da diverse mani a questo punto si resero conto che non sarebbe stata una cattiva idea sventrare completamente il materasso con delle forbici chiesero delle forbici nel frattempo un moccolo di sego ormai quasi consumato illuminava una scena estremamente curiosa per l'osservatore circa una decina di inquilini vestiti nelle fogge più pittoresche si affollavano intorno al letto tutti spettinati con la barba lunga con le facce non lavate e gli occhi assonnati nello stesso stato in cui ci trovavano al momento di andare a dormire taluni erano pallidissimi ad altri spuntava il sudore sulla fronte alcuni erano in preda al tremito altri alla febbre la padrona completamente istupidita se ne stava lì in piedi in silenzio alla merced di Jaroslav Ilie da sopra la stufa con spaventata curiosità facevano capolino le teste della serva dvotia e della gatta preferita della padrona tutt'attorno erano sparsi i paraventi lacerati e fracassati il baule spalancato mostrava il suo ignobile contenuto a terra giacevano la coperta e il guanciale coperti di ciuffi di fibre del materasso e infine su un tavolino di legno a tre gambe brillava un mucchietto che via via si faceva più grosso di monete d'argento ad ogni specie il solo seme in Ivanovich manteneva pienamente il suo sangue freddo giaceva tranquillamente sul letto e a quanto sembrava non presentiva affatto la sua spoliazione quando finalmente furono portate le forbici e l'aiutante di Jaroslav Ilie desideroso di rendersi utile scrollò un po' bruscamente il materasso per tirarlo fuori più facilmente di sotto la schiena del suo proprietario Semjan Ivanovich che conosceva le buone maniere dapprima fece un po' di posto girandosi su un fianco con la schiena verso i cercatori poi al secondo scrollone si mise bocconi infine si fece ancora da parte e dato che mancava l'ultima asse laterale del letto all'improvviso del tutto inaspettatamente sprofondò a testa in giù lasciando in vista soltanto le gambe magre ossute e bluastre che sporgevano per aria come due rami di un albero bruciato dato che era già la seconda volta quella mattina che il signor approcciarai andava a finire sotto il letto la cosa suscitò immediatamente dei sospetti e alcuni degli inquilini capeggiati da Zinovi Prokofievich si infilarono là sotto con l'intento di scoprire se mai anche lì fosse nascosta qualche altra cosa ma i cercatori andarono soltanto a sbattere inutilmente l'uno contro l'altro con la fronte e dato che Jaroslav Ilie subito li redargui e ordinò che tirassero fuori immediatamente Semyon Ivanovic da quella posizione indecente due fra i più assennati afferrarono ciascuno con entrambe le mani ognuna delle due gambe ed estrassero l'insospettato capitalista riportandolo alla luce ed eponendolo di traverso sopra il letto nel frattempo volavano tutti intorno crini e ciuffi di fibre il mucchietto d'argento cresceva e mio dio che cosa mai non c'era nobili monete da un rublo rispettabili robuste monete da un rublo e mezzo la graziosa moneta da un mezzo rublo plebee monete da venticinque e da venti copecche e perfino i pochi promettenti spiccioli da vecchine le monetine da dieci e da cinque copecche d'argento ogni cosa volta in speciali involucri di carta nell'ordine più meticoloso e decoroso verano anche delle rarità due strani gettoni un Napoleone d'oro una monetina sconosciuta certamente assai rara alcune delle monete da un rublo risalivano anch'esse alla remota antichità erano monete consunte e segnate del tempo di Elisabetta corone tedesche e monete del tempo di Pietro e di Caterina c'erano per esempio delle monetine ora rarissime le vecchie monete da quindici copecche perforate e portate alle orecchie completamente consunte ma con il numero regolamentare di punti c'erano perfino delle monete di rame ma tutte ormai verdi ossidate trovarono anche un biglietto di carta rosso ma non ve ne erano altri alla fine quando tutta l'operazione di anatomia fu terminata e dopo aver ripetutamente scrollato l'involucro del materasso ebbero constatato che dentro non era più nulla che tintinnava si misero in ordine tutti i denari sulla tavola e si incominciò a contarli a un primo sguardo si sarebbe potuto anche sbagliarsi e stimare che ammontassero addirittura a un milione tanto enorme era il mucchio ma non erano un milione anche se si trattava di una somma estremamente considerevole esattamente 2497 rubli e 50 copecche cosicché se fosse stata effettuata la colletta di Sinovi Prokofievich forse si sarebbe raggiunta in tutto la cifra tonda di 2500 rubli con le banconote i denari furono sequestrati vennero apposti i sigilli al baule del defunto furono ascoltati le lamentere della padrona e le venne indicato dove e quando dovesse presentare la documentazione riguardante il debituccio del defunto fecero apporre la firma a chi conveniva accennarono anche alla cognata ma convintisi che quest'ultima in un certo senso non era altro che un mito ossia un prodotto della mancanza di immaginazione di Semyan Ivanvic di cui a quanto risultava dalle informazioni raccolte il defunto veniva spesso rimproverato così quest'idea fu immediatamente abbandonata come inutile dannosa e che andava a scapito della reputazione di lui del signor Procherein e così la faccenda fu chiusa quando poi la prima impressione di spavento si fu un po' mitigata e riacquistato il proprio sangue freddo si resero conto di chi fosse il defunto tutti allora si fecero quieti e silenziosi e cominciarono a guardarsi l'un l'altro con una sorta di diffidenza taluni si sentirono estremamente toccati dall'azione di Semyan Ivanovic e persino si offesero un capitale di quella montare quanto era riuscito ad accumulare quell'uomo Mark Ivanovic che non aveva perso la sua presenza di spirito si avventurò anche a spiegare perché all'improvviso Semyan Ivanovic fosse stato preso da una tale paura ma ormai nessuno lo stava più ad ascoltare Sinovi Prokofievic era stranamente pensieroso Okeanov alzò un po' il gomito gli altri sembrava si stringessero gli uni agli altri mentre il piccolo Kantarev che si distingueva per il suo naso da passero verso sera traslocò dall'appartamento dopo aver sigillato e legato con molta cura tutti i suoi bauletti e fagotti spiegando freddamente ai curiosi che i tempi erano duri e che i prezzi lì erano al di sopra delle sue possibilità quanto alla padrona ululava senza fine lamentandosi e maledicendo senza posa Semyan Ivanovic che aveva offeso la sua condizione di orfana si informarono da Mark Ivanovic perché mai il defunto non avesse depositato i suoi soldi al monte di pietà era una persona semplice mammina e non ha avuto abbastanza immaginazione rispose Mark Ivanovic ma anche voi siete una persona semplice mammina interloquio Chianov per vent'anni ha campato in casa vostra una persona è bastato un buffetto a farlo crollare a terra e voi stavate a cucinare gli sci non avevate tempo eh mammina oh tu giovanotto mio proseguiva la padrone ma che monte di pietà l'avesse portato a me il suo gruzzolo e mi avesse detto prendilo giovane Ustiniushka in segno della mia riconoscenza e mantienimi a tue spese finché la umida madre terra mi porterà e io lo giuro davanti all'icona lo avrei nutrito l'avrei dissetato avrei avuto cura di lui che peccatore che ingannatore ingannare imbrugliare un'orfana si avvicinarono nuovamente al letto di Samian Ivanovic ora egli giaceva come si deve vestito del suo abito migliore del resto unico col mento irrigidito nascosto dalla cravatta annodata un po' maldestramente lavato pettinato soltanto non ben rasato perché nei vari angoli non si era riusciti a trovare un rasoio l'unico che apparteneva a Sinovi Prokofievic si era rovinato già l'anno precedente ed era stato vantaggiosamente venduto al mercato delle pulci gli altri invece andavano dal barbiere non si era ancora avuto il tempo di fare ordine i paraventi fracassati erano ancora a terra e mettendo a nudo la solitudine di Samian Ivanovic sembravano simboleggiare il fatto che la morte strappa il velo da tutti i nostri segreti i nostri intrighi le nostre trame l'imbottitura del materasso giaceva anch'essa tutto intorno in grandi mucchi sarebbe stato assai felice per un poeta paragonare quell'angolo improvvisamente raffreddatosi al nido distrutto della rondine della casa tutto era stato devastato e fatto a pezzi dalla bufera uccisi i picciolini insieme alla madre disperso al vento il loro caldo lettuccio di piume penne bambagia d'altronde Samian Ivanovic aveva piuttosto l'aspetto di un vecchio vanitoso e di un passero ladro ora era diventato tutto quieto e sembrava che cercasse di passare inosservato come se non fosse lui il colpevole come se non fosse stato lui a inventarne di ogni genere per ingannare e menare per il naso tutte le persone per bene senza pudore e senza coscienza nella maniera più scandalosa egli ormai non ascoltava più i singhiozzi e il pianto della sua padrona rimasta orfana e offesa al contrario come un esperto e consumato capitalista il quale persino nella vara non desidera sprecare neppure un minuto rimanendo inattivo sembrava che fosse tutto assorto in certi suoi calcoli speculativi sul suo volto si leggeva chissà quale profondo pensiero e le sue labbra erano serrate con un'espressione così significativa che mai quando era vivo si sarebbe potuto supporre potesse appartenere a Samian Ivanovic sembrava che fosse divenuto più intelligente il suo minuscolo occhio destro sembrava micchasse furbescamente pareva che Samian Ivanovic volesse dire qualcosa che volesse comunicare un'informazione estremamente importante che volesse spiegarsi e il più in fretta possibile perché aveva un sacco di faccende da sbrigare e aveva poco tempo e pareva quasi di udire queste parole ma che fai? smettila mi senti? femmina stupida che non sai altro non frignare dormici sopra madre mi senti? io sono morto ora non serve più ma cosa fai? davvero? è bello starsene a giacere ma non è di questo che volevo parlare tu femmina sei un asso sei un asso di femmina capiscilo è come morto ora e se poi invece tu hai così non può essere ma se poi invece non fossi morto mi senti e mi alzassi in piedi che cosa succederebbe? eh? grazie grazie